Indovinate chi abbiamo chiamato per augurarvi Buon Natale? L'Italia chiama, J-AX risponde! Energia! Sabato 22 dicembre alle rotonde di Garlasco J-AX J-AX l'inventore del rap and roll italiano sarà alle rotonde per un DJ set esplosivo Un Natale così non l'avete mai passato J-AX DJ set sabato 22 dicembre solo alle rotonde di Garlasco A 20 minuti da Milano autostrada a 7 uscita Europello Cairoli Info 340-355-4755